È ormai quasi una settimana che tutte quante le criptovalute, almeno quelle che si trovano nella top 10 delle criptovalute a maggiore capitalizzazione, stanno crollando. Ormai c'è una flessione, un trend ribassista che è in atto da parecchi giorni. È questa la fine delle criptovalute? Il fenomeno delle criptovalute sta terminando? Ciao, sono Marco Casario, benvenuti a questo nuovo video dedicato al mondo delle criptovalute. E una volta per tutte, ragazzi, il mondo delle criptovalute è un mondo particolare, diverso dal mondo dei mercati finanziari normale. Flessioni del 20-30% sono flessioni assolutamente normali. Ci sono stati momenti in cui il bitcoin e altre criptovalute hanno perso il 60-70, addirittura l'80% del loro valore. Quindi, smettetevi di preoccuparvi e cercate invece di analizzare e capire che cosa sta succedendo. Perché bitcoin sta scendendo? Perché ethereum sta scendendo? Perché ripple sta scendendo? Perché litecoin sta scendendo? Perché le maggiori criptovalute stanno scendendo? Se avete visto dei video che ho preparato tempo fa e ho pubblicato sul canale, avrete già capito una cosa. Le criptovalute sono fortemente dipendenti dalla tecnologia sotto la quale sono basate, e in particolare la blockchain. Quindi, se la blockchain mostra dei segni di debolezza, è normale che questa debolezza che è stata mostrata dal lato tecnologico sicuramente ne fa risentire, ne fa rispecchiare una debolezza dal punto di vista del valore della valuta. Ed ecco qui che ethereum, dopo due ICO a cui ha dovuto praticamente partecipare, dopo aver mostrato debolezza dal punto di vista tecnologico in termini di limiti di transazioni al secondo che ha dovuto subire e che non è stata in grado di affrontare, aperta parentesi e chiusa parentesi, pensate che ha dovuto supportare un numero al secondo di transazione, drasticamente maggiore rispetto a quello che avrebbe potuto sopportare visa, quindi il circuito delle carte di credito. Nemmeno la visa, il circuito della visa, sarebbe stato in grado di sopportare quel numero di transazioni al secondo. E non ce l'ha fatta nemmeno ethereum, non è che è esplosa, ma semplicemente ha dimostrato un po' di debolezza. E niente, quindi che cosa è successo? È successo che sul mercato ethereum è scesa, ma guardate vi faccio vedere esattamente quello che è successo grafici alla mano, così vi rendere conto meglio di quello di cui sto parlando. Passiamo un attimo ai grafici. Allora partiamo da questo, guardate vi ho detto prima la top 10, questa sono su CoinMarketCap, è uno dei siti che utilizziamo nel corso di formazione dedicato alle criptovalute e in cui spiego appunto ai miei partecipanti come utilizzare questi dati, però semplicemente per farvi vedere queste sono le 10 criptovalute con maggiore capitalizzazione, market capitalization, ok? Quindi bitcoin al primo posto, ethereum al secondo, poi abbiamo ripple, litecoin, ethereum classic, classic, nem, dash, iota, bit shares e così via, fino ad arrivare a Stratis. Bene, guardate, se guardate la situazione di questo momento sono tutte quante in perdita, vedete questi numeri negativi, questi sono la variazione di prezzo nelle ultime 24 ore, ma se guardate al grafico, questo è una sintesi di come si è mosso il grafico negli ultimi 7 giorni, vedete come effettivamente tutte quante le valute negli ultimi giorni stanno mostrando debolezza, questo è bitcoin, questo è ethereum, questo è ripple e così via, praticamente stanno tutte quante scendendo, ethereum in particolare, ve lo faccio vedere da qui, questo è il grafico, ho cliccato sul link, semplicemente adesso entro nel grafico degli ultimi 7 giorni, e andiamo a vederci il prezzo, vedete come negli ultimi 7 giorni praticamente ethereum stava per toccare i 400 dollari, 377 dollari, ha cominciato a scendere, e ha cominciato a scendere dopo la ICO, quindi l'initial coin offer del 12 giugno, c'è stata la prima, e poi c'è stata la seconda che qualche giorno dopo mi sembra, se non ricordo male, intorno al 16, 18, o giù di lì, e che cosa è successo? che ha mostrato debolezza la tecnologia, la blockchain su cui è basato a ethereum, e ethereum è cominciato a scendere, addirittura qua è scesa sotto i 280, adesso oggi sta un attimo lateralizzando, vediamo un secondo la giornata di oggi, questo è il grafico della giornata, vedete ha toccato questo minimo qui a 284, poi di nuovo l'ha ritoccato a 277, adesso si è stabilizzata leggermente sopra i 280, e ragazzi questo è quello che bisogna, come trader che fanno appunto investimenti sulle criptovalute, quello che dovete riuscire a essere in grado a leggere, quando dico sempre leggete tra le righe, è capire notizie, come le notizie possono impattare sul valore delle criptovalute, e le notizie più importanti sono quelle che riguardano le tecnologie, su cui sono basate le criptovalute, guardate vi faccio vedere anche bitcoin, perché mi potreste chiedere, ma invece a bitcoin Marco che cosa è successo? Eh ragazzi bitcoin sta attraversando, guardiamo negli ultimi sette giorni, vedete qua praticamente stava intorno ai massimi a 277, credo abbia toccato anche i 288, si è avvicinata molto ai 288, e poi boom è crollata, addirittura sotto i 255, qua 2560, e ancora oggi in questi giorni, è scesa vicino ai propri 2.500 dollari, che cosa sta succedendo a bitcoin? E bitcoin sta attraversando un momento di profonda incertezza, proprio dal punto di vista tecnologico, perché quello che sta succedendo è che, in quest'ultima settimana, 10 giorni, un nutrito gruppo di miners e di exchange, e vi dico principalmente exchange e miners che vengono dalla Cina, che quindi hanno un esching power molto importante, hanno sottoscritto un impegno, cioè vogliono implementare dal primo agosto, un protocollo che si chiama SEG with 2X, bene, la dichiarazione dell'implementazione, della volontà di implementare questo nuovo protocollo, e ragazzi, guardate bene, c'è stata solo una dichiarazione di intenti, ma niente è stato visto, poi ho fatto dal punto di vista tecnologico, su bitcoin, bene, solo questa dichiarazione, che rappresenterebbe ovviamente un passo fondamentale, per risolvere i problemi che bitcoin ha sempre dimostrato, in termini di scalabilità, bene, solo questa dichiarazione, ha, diciamo, dal punto di vista del valore del bitcoin, lo ha fatto scendere un pochino, perché siamo, prima c'è stata un'euforia iniziale, quindi ha cominciato a salire il valore, e dopodiché è cominciato a scendere, è tornata ai valori praticamente di una settimana fa, quindi ragazzi, ci troviamo di fronte ad una fase altamente interlocutoria, cioè piuttosto, c'è incertezza, no? E quindi le due principali tecnologie, dal punto di vista di bitcoin, stanno affrontando, bitcoin e ethereum, stanno affrontando quelli che sono limiti tecnici, sono i limiti più importanti per una criptovaluta, quindi hanno dimostrato che messi sotto pressione, da un livello ovviamente di diffusione delle criptovalute, che è cresciuta esponenzialmente negli ultimi mesi e negli ultimi anni, perciò, che succederà adesso? Bene, prima di tutto dovremo vedere se le monete riusciranno, le criptovalute riusciranno a risolvere i propri problemi tecnici, ok? E quindi quella che riuscirà a risolvere i problemi in maniera più veloce, più performante, sarà probabilmente quella che la moneta, la valuta che prenderà la guida del mercato. E noi che cosa possiamo fare? Stare attenti, con le antenne puntate, saper interpretare le notizie che escono, quindi seguirle attentamente, e cercare di creare un portafoglio comunque diversificato, che ci faccia trovare sul treno giusto. Quindi, state calmi, state tranquilli, non è la fine delle criptovalute, oscillazioni di questo tipo se ne sono viste in passato, flessioni di questo tipo se ne sono viste in passato, e se ne sono viste anche di più importanti. Perciò, non abbiate timore, non appena il mercato ha una flessione del 20-30%, è normale, è normale, non possono sempre salire queste monete in maniera... l'andamento delle monete non è una linea retta, delle criptovalute, ma delle valute in generale, non è una linea retta, no, ha delle oscillazioni, ha dei trend rialzisti, che poi vengono susseguiti da, degli cosiddetti outside return, ovvero dei ritracciamenti del prezzo, che poi di nuovo vengono susseguiti da un nuovo impulso rialzista, poi magari c'è una fase laterale del mercato, in cui il prezzo del mercato comprime, insomma, non è così, non pensate che, magari non venite dal trading classico sui mercati finanziari classici, non pensate che i mercati si muovano solo verso l'alto, non è proprio così. Quindi, calmi, come al solito, e come dico a tutti gli studenti nel mio corso, sappiate interpretare le notizie, sappiate crearvi un portafoglio diversificato di monete, di valute, di criptovalute, scegliendole molto bene, scegliendone le caratteristiche, la robustezza e la scalabilità della tecnologia sottostante, e state a guardare, sapendo intervenire nel momento giusto. Bene ragazzi, questo video è terminato qua, fatemi sapere con un like se vi è piaciuto, ditemi che cosa ne pensate, ditemi come state attraversando questo momento, noi ci vediamo presto, al prossimo video, ciao!